Parte la stagione concertistica 2022 del Teatro Marruccino, che cosa ci si aspetta? Innanzitutto io mi aspetto che il pubblico partecipi, perché la stagione è costruita veramente per attrarre e accontentare un pubblico molto eterogeneo. Addirittura ci sono anche degli eventi dedicati ai bambini, poi dei grandissimi nomi, Sergei Krilov, violinista, Alexander Cobrin, pianista, una grande pianista dal Mozarteum di Salisburgo. Abbiamo quest'anno l'onore di ospitare di nuovo a Chieti il premio Paganini 2021. Giuseppe Gibboni è stato qui a Chieti a suonare nel foie da ragazzo nella sezione Giovani tre anni fa e torna quest'anno come il vincitore di uno dei più grandi concorsi violinistici al mondo. Ma naturalmente c'è stato spazio anche per le orchestre, per gli ensemble, c'è un concerto jazz, perché no, con il Claudio Filippini Trio, per dare un sapore diverso ai concerti che si svolgono qui dentro il teatro. Si parte con la prospettiva che poi il Covid non blocchi ancora una volta, perché sappiamo che la stagione doveva iniziare a gennaio invece è stata poi posticipata a questo mese di febbraio. Mi dà l'occasione tra l'altro di presentare il concerto di domenica, l'inaugurazione, che è un concerto dedicato all'amore, con opera e operetta, con tre soprani teatini abruzzesi, che stanno facendo una grandissima carriera. Le dico che la pianista prevista ieri mattina nel tampone del viaggio è risultata positiva, quindi siamo riusciti all'ultimo momento, grazie ai contatti e alla generosità di grandi professionisti, a coinvolgere un maestro che sarà presente sul palco, il maestro Isabella Crisante. E questo è un momento difficile, è un momento difficile col quale però tutti fanno i conti, quindi non bisogna preoccuparsi, bisogna soltanto preoccuparsi di fare le cose per bene secondo le regole. Il maestro Mazzoccante sin dal suo insediamento nelle settimane scorse si è messo allacremente al lavoro con il CD a tutto e con l'amministrazione al suo fianco e già sta dimostrando, oltre ad aver programmato una grandissima programmazione per la lirica triennale, con la prosa e anche con questa stagione concertistica di altissimo livello, che il teatro è vivo, che il teatro lo stiamo rilanciando, che il teatro è il punto di riferimento di tutta la regione Abruzzo per la musica, per l'arte, per l'opera e per il teatro.